Il guai Hollywood è che tutti vogliono fare cinema. Ehi, volete fare un film? Sì! Avete proprio quello che serve. Stop! Facciamo i primi piani ora! Con le attrici vere. Dare a quelle due la 106. Preferisco morire. No! Bijou 106, il tuo modo di essere. Da 14 milioni 500 mila lire. A presto!